Antonino Di Marco, ripartiamo da quei minuti finali del primo tempo, ti arriva il pallone, calcio e botta sicura, la palla si stampa sulla traversa. Sono stato molto sfortunato su quella situazione, invece per quanto riguarda la prestazione sia personale che di squadra, credo che abbiamo fatto una bella prestazione. Poi nel calcio ci sono degli episodi a favore e a sfavore, purtroppo al 94esimo abbiamo avuto l'episodio a sfavore con l'autocolle di Pasquale. Soprattutto in questa partita credo che di episodi a sfavore oggettivi ce ne siano stati tre, la tua traversa, il rigore di Vergani e l'autocolle sfortunato di Di Pasquale. Sì, come ho detto poco fa ci sono degli episodi a favore e a sfavore, siamo stati sfortunati, credo che però abbiamo fatto un'ottima prestazione e quindi andiamo avanti su questa strada. Al di là del momento che non è positivo, ma al termine di una prestazione comunque non negativa, ci sono dispiaciuti i cori dei tifosi nei vostri confronti? Credo che siano anche giusti, visto che c'è un momento negativo, però dopo questa prestazione credo che i punti arriveranno. Cosa avete detto un po' come squadra, come gruppo a Davide Di Pasquale? Ma niente, l'abbiamo incoraggiato anche perché ha fatto una grande partita, solo che è stato sfortunato sul lato gol, però al di là del lato gol ha fatto una grande partita. Arezzo, partita da non fallire, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, dobbiamo mettere l'atteggiamento che abbiamo avuto contro il Perugia e cercare di fare i tre punti. Come sta vivendo questo momento in Torino De Marco? Da grande protagonista in quel momento positivo di dicembre del Pescara, poi alcune partite non si è stato preso in considerazione, poi con il Perugia titolare? Il mister fa le scelte, io seguo il mister e sono contento di questo, di avere un grande maestro come il mister, quindi quello che decide il mister io accetto. Il complesso, questa tua prima stagione a Pescara? Penso che come primo anno sto giocando tanto e questo mi va bene.